Grazie a tutti. Inconveniente tecnico sulla linea alta velocità Roma-Firenze, dovuto a un incidente che ha coinvolto un piccolo aereo da turismo, la circolazione ferroviaria tra Roma-Tiburtina e Settebagne è fortemente rallentata, ritardi in linea. In chiusura per il traffico urbano di Firenze, segnaliamo provvedimenti di circolazione nei pressi dei cimiteri cittadini in occasione della commemorazione dei defunti. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!